Sono Sorata, piccola missionaria eucaristica, sono albanese di nascita, vissuta in Italia per 19 anni e da 6 anni vivo in Tanzania. Sono in una missione nella diocese di Bunda, nord della Tanzania, in un villaggio per bambini orfani e albini. Il villaggio è strutturato come una grande famiglia, per cui viviamo lì insieme, scuola e casa per i bambini. Sono qui perché ho avuto questo dono dalla comunità per fare un punto della situazione, per conoscere qualcosa in più sull'Africa, perché in realtà noi siamo partiti senza sapere niente, è il buio totale. Mi piace tantissimo, i tanzaniani, credo che sia un po' così per tutti, ma i tanzaniani sono un popolo molto accogliente, pacifico, molto pacifico per i miei gusti, ma sono gente molto buona e mi piace, mi piace tanto. L'Albania è solo per andare a trovare i miei genitori ormai, perché manco da tanto. Ho vissuto in Albania fino ai 19 anni, poi al 19 sono venuta in Italia e sono stata in Italia fino a 6 anni fa.